Bene, anche se abbiamo avuto un'ora fregata dall'orario legale, pronti, in partenza? E carini pompieri! Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ! 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